Siamo arrivati alla conclusione di un intervento lungo e complesso partito diversi anni fa che porta a Pesaro a inaugurare il terzo grande parcheggio gratuito nel giro di pochi mesi. Prima Villa Marina in Viale Trieste, poi il nuovo parcheggio bianco accanto alla stazione del treno, importantissimo per i pendolari, e qua invece un parcheggio nuovo di 227 stalli, 19 per i motorini, a disposizione di tutti coloro che vivono il centro storico. San Deccenio quando è stato inaugurato tempo fa era un parcheggio praticamente sempre libero, oggi invece inizia già a essere tanto utilizzato e qua invece si dà respiro sia in particolar modo nelle giornate del mercato cittadino, ma in realtà dà anche più respiro durante le giornate sia estive per i turisti e pesaresi, ma diciamo per tutto l'anno un parcheggio, un'infrastruttura nuova importante. Qui va ricordato, c'erano inerti, c'era ghiaia, c'era polvere, oggi c'è un parcheggio con tanto verde, con delle alberature che proseguiranno poi anche nella parte già inaugurata a ottobre con la realizzazione di nuove aiuole e nuove piantumazioni che verrà fatte a settembre-ottobre quando anche le condizioni metto saranno migliori per questo tipo di piantumazioni. Quest'inaugurazione suggerisce un po' un esercizio che abbiamo fatto rispetto alla realizzazione di un principio di solidarietà, quindi di collaborazione pubblico-privato. Sicuramente ci sentiamo in parte artefici della realizzazione di questo progetto. Questo progetto prevedeva comunque sia che noi, i quali proprietari dell'azienda di FME che lavorava in quest'area, dovessimo metterla a disposizione a completamento dell'edificio che abbiamo su Via Pertini. Di fatto abbiamo lasciato spazio proprio per dare possibilità alla città di disufforire di queste attività ben prima dell'ultimazione dei lavori di là, quindi se vuoi sacrificando la nostra attività qua, ma l'abbiamo fatto per una buona causa, da buoni cittadini, ci piaceva dare anche il nostro contributo.